Ha chiesto ai genitori i soldi necessari per comprare la droga, ma di fronte al loro rifiuto non ha esitato a minacciare la madre e a mettere le mani addosso l'anziano padre. Un figlio tutt'altro che esemplare, quello arrestato dai carabinieri a Canosa di Puglia, con le accuse di tentata estorsione, maltrattamento in famiglia, lessioni personali, ingiuri e minacce. Il giovane, di 18 anni, ha preteso dalla madre i soldi per acquistare le sostanze stupefacenti, scontrandosi però con il rifiuto della donna, stanca forse di acconsentire a quell'ennesima richiesta di denaro. Un no che il ragazzo non ha voluto accettare, tanto da insultare ripetutamente il genitore, minacciando poi di passare levi di fatto. Il diciottenne non si è calmato neanche all'arrivo del padre, intervenuto in difesa della moglie. Tra i due è scoppiata una violenta lite, nella quale l'anziano ha avuto la peggio, procurandosi lesioni guaribili in una decina di giorni. Sempre la droga è stata la causa di altri due arresti eseguiti dai carabinieri di Barletta, nei confronti di due cittadini albanesi di 25 e 18 anni. Nel corso di una perquisizione eseguita con i cani antidroga, in casa del più grande dei due, già agli arresti domiciliari per altri reati, i militari hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina e diverso materiale utile dal confezionamento delle dosi. Entrambi gli stranieri sono finiti in manette su provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Trani. Dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie. Grazie. Grazie.